Si chiama Progetto Digitale, la rete di aziende riminesi nata per progettare contenuti on demand, cioè su richiesta, per servizi all'editoria ed un nuovo tipo di distribuzione del prodotto culturale, con possibilità di business di tipo globale. Sicuramente la nostra idea è quella di creare un nuovo sistema distributivo per far sì che vengono venduti solo i libri veramente prodotti. Non è facile mettere insieme cinque aziende, ha detto l'editore Mario Guaraldi, vero motore dell'iniziativa, durante l'inaugurazione della sede a Rimini. È una sfida globale, va detto questo, non è una sfida locale. Noi stiamo giocando una partita che tiene conto che i grandi player editoriali e distributivi sono ormai di tipo planetario. Allora, o siamo matti perché abbiamo perso la testa e siamo diventati megalomani, oppure è l'unica maniera per affrontare il reale. Mission della sinergia di queste aziende, Digital Print, Guaraldi, Touch Window, 01 Project e Compresa, è salvare il libro in tutte le sue declinazioni. E un libro e soprattutto il suo contenuto, al di là del formato utilizzato. Pensiamo di portare un'innovazione sostanziale passando dall'ideazione del libro alla distribuzione fisica del libro fatto su misura. Cioè quello che credo sia l'unione importante che abbiamo con Digital Print e Guaraldi Digital Print, che possiamo ideare e produrre i libri solo su richieste.